Ciao a tutti amici delle case naturali, oggi andiamo a vedere come ho ristrutturato il solaio di questa contrada. Il materiale che è stato utilizzato è legno, un assito di legno incrociato. Ci sono all'interno del scioglio dei travi lamellari, un dimensionale per supportare questo carico e poi all'interno c'è un isolamento in balla di paglia del spessore di 37 cm che è la misura standard della balla di paglia. Qui andiamo a creare un ambiente, un ambiente comune, in questo spazio, siamo a piano primo, sotto invece abbiamo l'ex stalla dove sarà più un locale estivo, mentre qui è un locale da utilizzare tutto l'anno. Sopra andremo a ricostruire la teda, che è la copertura tipica di questa zona, andremo qui ad isolarla nella linea. Diciamo che cerchiamo di rimanere con i materiali coerenti. Ecco qui, qui da fuori e questo esterno. è stanno. Ciao. 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 Ciao.